Questa è la terza edizione che facciamo e le svolgiamo appunto nelle mattinate delle vacanze pasquali, il giovedì, il venerdì e poi finiamo con martedì 11 e facciamo tutta la mattinata con tutti i bambini. Qua la Scarpellini e i più piccolini della materna invece li accoglie il Salice Gualdoni in cerco culturale. E come si svolgono queste giornate? Allora facciamo delle attività motorie perché è il nostro obiettivo finale dell'associazione e proteggiamo i bambini in diverse iniziative di laboratorio oltre che di sport e framezziamo queste attività con la caccia alle uova che è chiaramente ciò che porta il bambino qua effettivamente e riusciamo così anche ad aiutare le famiglie che in questo periodo qua di vacanze non hanno magari dove sistemare tutti i bambini. Il nostro impegno è questo e anche sociale oltre che chiaramente sportivo e mira appunto a far sì che i bambini vivano sempre comunque di sport e di socialità. E quali sono nello specifico le attività che svolgete anche motorie? Allora le attività che svolgeremo oggi in questa giornata qua saranno principalmente quelle che il parco ci consente quindi attività faremo dei mini circuiti in modo che attiviamo per i più piccoli le capacità motorie di base che in questi periodi qua insomma visto e considerato quello che abbiamo passato è veramente estremamente importante. Poi ci dedicheremo alle staffette e alla corsa cose molto semplici quello che normalmente un bambino deve fare in un parco senza attività proprio di quelle tipiche come pallavolo, calcio. Quelle lasciamo a tutte le realtà sportive del quartiere che comunque sempre durante l'anno ci aiutano e ci sostengono.